Il 23 febbraio del 1893, Rudolf Diesel ottiene il brevetto per il motore termico razionale destinato a soppiantare la macchina a vapore e le altre macchine a combustione finora conosciute. Così, il suo inventore descrive il risultato di anni di ricerca ed esperimenti, risultato che, a prima vista, è una macchina molto simile a quella a vapore, una costruzione di acciaio alta 3 metri, di forma triangolare ed estremamente rumorosa, che ha un rendimento termico del 30% circa, quasi il triplo di quello della macchina a vapore. E questa imponente macchina è destinata, di lì a poco, a rivoluzionare il settore dei trasporti pesanti. Già all'inizio del Novecento, alcune navi azionate da motori diesel cominciano ad attraversare il canale della manica. Poi, la Prima Guerra Mondiale velocizza lo sviluppo di questa tecnologia per la flotta navale, per i sottomarini e anche per i dirigibili. Dal mare alla terra. È nel 1913 che viene realizzata la prima locomotiva a diesel, mentre per la prima auto di serie al mondo, spinta da un motore alimentato a gasolio, bisogna aspettare il 1936, con l'uscita della Mercedes 260D.